Ciao ragazzi, oggi ci troviamo all'Hyperspace di Bologna. Ho portato i miei amici di parkour per farli provare questa nuova esperienza. Vi consiglio di vedere il video fino alla fine perché facciamo robe assurde, doppi, tripli, quadrupli... No, anzi no, quadrupli no, però godetevi il video. Prima impressioni sulle calze, Anto? Non mi entrano! Poi ovviamente ci siamo anche scaldati perché siamo tutti vecchi e rotti. È sempre importante scaldarsi bene l'articolazione dei ginocchi prima di saltare. Come riscaldare il po' in lingue da questa zona qua? Ti metti qui e poi... Che cosa? Beh, puoi? Sì dai, 4. Ciao bella Pussi! Ciao bella Pussi! Faccio dei bei video anche per Bologna, certo! Tanta roba! Vai Anto, primo back dopo un bel po' di tempo. Dopo due anni, dopo due anni esatto, un anno, un anno! Eeeh, una meraviglia! Uno! Ci l'uomo! Ci l'uomo! Facciamo gainer pre di sopra. Bello da Dio! Uh! Bello! Che mona! Vai mona! Questa era inaspettata il cork alla fine. De No, no capisco più una mazza! Diceva... Sii Lo schifo Dai 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 Devo riabituarvi Il sbarco diesel Bello bro Poi c'è Otona che non so fare un cazzo No Due, tre, quattro Front, front No Doi man Sì Sì Vai la scusa E' alto Sii vai la provoca No ci ho messo lo zoom Ma cazzo si toglie Ti ho la più pari idea di come si toglie sto zoom Ah no aspetta Cazzo Così Specchito Ma è stranissimo Allora abbiamo rubato l'account di Pablo Tanto quella gente ci sta guardando male Ciao Sii uomo Uuuu 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 E poi Bro Uuuu Vai man Vai in triplo queste tue Uuuu 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 E si è Cosa è passata? Mezz'ora, un'ora? Neanche E da un'ora che siamo qua E siamo già morti Uuuu 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 Ma quanto siamo belle Piccola Uuuu Filmata di merda Oh beh Uuuu Ci hai cagato? Un pochino Uuuu 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 L'hai fortunato Un cazzato negro Qualcosa da dichiarare? Col colo un po' increccato e basta Uuuu 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 Ci faga Uuuu 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 Chi faga? No Grazie Prego Da va Beh Jo Carini po' osn'am Sì, Momo! Non volevo farlo, l'ho anche atterrato in piedi, ti giuro, non volevo farne uno, ne ho fatti due, vaffan***a! Sì, non ho vero! Sì! Sì! Ti fai vedere qualcosa? Se vuoi provare a buttarti un double pool, però non ti assicuro niente! Vai fammi vedere, sono curioso! Man! Guarda che è bello! Però è bello! Sto andando! Allora siamo alla fine di questo bellissimo video, stiamo mangiando, io mi sono praticamente rotto il collo, l'ho fatto un cazzo per tre ore, però è figo l'hyperspace, quindi mi rite! Personalmente quello di Bologna io lo trovo più bello di quello di Milano, è più figo, le cose sono disposte meglio! Adesso un po' se non mi viene il canto! Vabbè ragazzi, ci becchiamo al prossimo video, iscrivetevi, like e condividete! Bella bella! Ciao! I will always love you How I do I let go of the prayer for you Bruh